Un abbraccio sincero, il campione che si emoziona di fronte all'uomo che lo ha lanciato nel calcio che conta. Alessandro Del Piero appena l'ha visto si è alzato ed è andato da lui, da Vittorio Scantamburlo, talent scout storico del calcio Padova. Non ha voluto mancare a questo appuntamento, con lui l'agenda dove si segnò per la prima volta il nome di Del Piero. La partita era San Vendemiano, Orsago. Di quando è questa agenda? Il 10 dell'11 del 87. Ha segnato Del Piero tre stellette ed era il massimo che dava? Sì, ha fatto tre o quattro giocate ma da alto livello. Poi ho parlato con il ragazzo e alla fine mi ha detto che ho visto che è un ragazzo intelligente, dall'espressione degli occhi e ho visto anche un ragazzo riservato, educato. Accanto al cognome tre stelle, il massimo. Da quel momento la vita di Alex cambiò. Le giovanili del Padova, la prima squadra e poi la Juventus. Nonostante siano trascorsi tanti anni, l'affetto resta sempre lo stesso. L'emozione di rivederlo qui a Padova? Direi che è sempre un divertimento quando gioca a noi, perché in una partita quando fa poco più di qualche anno.